Beh, è così. Ma era un modo di sopravvivere. Insieme ci siamo riuscite. Era una specie di nuova gara solo tra me e Nebula. Su chi avrebbe fatto ridere l'altra? È davvero perverso, ma anche stranamente tenero. Sì, beh, le battute non sono certo sufficienti a far tacere la coscienza. Wow, non credevo che la meditazione fosse così... intensa. O benefica?